dove? una a terra l'altra a terra ok una a terra la bot quella vaffanculo eh si lo faccio io bot o no è meglio farlo fuori perchè può rompere il cazzo dov'è l'altro? è la dietro ne ci spuglio? uno ne ci spuglio e l'altro e l'altro la dietro non c'è quello che sei se non ho anche spalle ci fai uno shield? non c'è un marire beh ma anche da dietro ci spalla no? no mi sa che sono sempre il serato arrivo allora ci arrivano altri 14 atterrato? è stato l'altro qua ok però porco d'igo no dobbiamo andarci andiamo? ma possiamo andare a capire volendo vedete che facciamo? giusto andiamo con l'aria va bene nooo cosa cosa? sono morata di sotto che fai? eh mentre stavo saltando ma che è il bot questo? ah no è l'ora nooo i cildini ce l'hai? eh eh è fulpe che ha preso dallo di a caduta lo scudo non si era tolto dove va? mi dico scudo cioè come avrà? si vabbè ha sentito si piazza che cuglio ora potete vecibare lo stronzi sapeva neanche lui quello che stava dicendo ora potete pure giociare lo stronzi eccoli qua ma chi affronte a bar ma dove sull'altro di brutto il mio colpito e si vede il giro porca dio ma dove ne torgarlo bella topolona ma preferisco la canale boi ne so ne chi sia la citata o rapper della canzone e spavo bruno ha bisogno .3 dai che è bianco qua ma marino ancora in lobby c'è un bozzo di gente verso ovest .3 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 .4 .4 .4 .3 .3 l'altro vado a 100 bravo